Problemi e prospettive diverse nel weekend sportivo made in Trieste. Allianz alle prese con l'arrivo della corazzata Milano al Palatrieste. Triestini in trasferta all'Ignago con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva. I ragazzi di Dalmasson si presenteranno sul parquet privi di Henry, Udanoe e Cavaliero con l'innesto di Mussini che provrà a dare una mano al gruppo in un momento di evidente difficoltà d'organico ma non certo di forma. Il resto della squadra ha fatto benissimo anche a Sassari e bisognerà stringersi attorno a uomini come Fernandes, Doyle, Alviti e La Quintana per provare a snocciolare la miglior prova possibile di fronte alla squadra di Messina. In campo i biancorossi troveranno una formazione di massimo livello d'Eurolega che ha rimpolpato con gli innesti super di Datome e Ainz un organico già di massimo livello. Palla due alle 17 per i 1000 che potranno fare ingresso al Palasport. Terza partita in una settimana invece per la Triestina di Gautieri che dopo la sconfitta all'esordio con la neopromossa Amatelica ha inanellato due vittorie consecutive in trasferta a Cesena e in casa con il Modena. Due prove convincenti che oltre a mettere in mostra le qualità realizzative di Gomez hanno evidenziato evidenti progressi nel gioco, nella compattezza di squadra e nella capacità di agredire l'avversario. Domani alle 15 a Legnago l'Unione vuole continuare a vincere e a progredire in classifica. Una vittoria e due pareggi per i veronesi che si dimostrano squadra quadrata e brava a difendersi soprattutto sul campo amico. Capacità di offendere ma anche pazienza nel sfruttare i punti deboli dell'avversaria le chiavi di un match che potrebbe schiudere le porte a un filotto vincente per i rossalabardati.